Ormai le conoscete, le nostre webinar sono questi momenti di formazione da casa per stare insieme, stiamo vicini andando lontano, diciamo così, andiamo a scoprire delle destinazioni strepitose. Chi mi conosce sa bene che per me Mauritius è il mio primo amore, lo vendo da tantissimi anni, l'ho visitato, credo di esserci stata più di 20 volte, ogni volta che vado a Mauritius è come essere a casa. Sono destination manager dell'oceano indiano di Alidays, quindi mi occupo di Mauritius, Maldive, Seychelles, Sri Lanka e Réunion. Le mie destinazioni preferite appunto Mauritius, tipo di viaggio ideale per me è stare con i piedi sulla sabbia, avere un posto al mare dove poter rilassarci e speriamo di poter raggiungere Mauritius quanto prima. Questa sono io nella foto per chi non mi conoscesse, voglio giusto dire due parole sulla destinazione in questo momento che stiamo vivendo così particolare, voglio dirvi che Mauritius ha deciso di prolungare il lockdown fino al mese di giugno per essere sicuri di non avere più casi. Hanno fatto cinque giorni senza avere nuove persone contagiate, quindi questa è sicuramente una notizia positiva. I loro casi sono veramente pochi e in questo momento dovrebbero essere sei casi, sette, ma proprio perché sono pochi i casi vogliono rimanere, vogliono essere certi di poter essere un'isola covid free dal momento in cui apriranno le frontiere per accoglierci. Quindi stanno stringendo i denti, sappiamo bene che il turismo per loro è una delle risorse sicuramente principali della destinazione e sappiamo bene quello che è successo, il volo che non ha fatto scendere gli italiani, c'è stato un po' di polemica, ma col senno di poi sono la prima a dire che hanno fatto bene. Eccoci qui, Mauritius, ci tengo a fare questo webinar su questa destinazione perché so bene che tanti di voi non la vendono per via del clima, non la vendono, il mio cliente è andato, ha trovato la pioggia, non la so vendere. E' un'isola sola innanzitutto, Mauritius nonostante quella S finale che fa spesso sbagliare mettere un articolo plurale davanti alla parola, si dice proprio questo scrittore Mark Twain diceva che Dio creò prima Mauritius e poi il paradiso terrestre che è la copia di Mauritius. Per chi è stato su quest'isola mi darà ragione, l'isola è verdissima, con questo mare, con i colori azzurro, con mille sfumatori di azzurro. La cosa bella di Mauritius non è solo fare mare, ma anche il suo interno. Qua c'è un'immagine di Mauritius con un po' di attrazioni da fare, dopo ve le vado a specificare. L'isola è comunque un'isola di dimensioni piccole e ha comunque tantissimo da scoprire. Un'unica bandiera e diversi significati. Abbiamo diversi significati della bandiera proprio perché l'isola assume diverse specifiche. Qualcuno dice che i colori della bandiera rappresentano le popolazioni. Sapete che Mauritius è una destinazione multietnica, quindi è una destinazione dove la popolazione vive benissimo in armonia e quindi qualcuno dice che il rosso sono gli hindù, i blu cristiani, il giallo i tamili, i verdi i musulmani. Altri invece dicono che il rosso simbolizzi la lotta popolare per l'indipendenza, il blu l'oceano, il giallo la luce della libertà e l'indipendenza e il verde l'agricoltura appunto di Mauritius che è come dicevamo prima fondamentale per loro insieme al turismo. Ecco il clima di Mauritius. Clima di Mauritius. Praticamente fa caldo tutto l'anno. Riconosciamo comunque due stagioni principali. Io consiglio l'isola davvero 12 mesi l'anno. La loro estate è da novembre ad aprile con temperature medie sui 30 gradi e da maggio a ottobre invece temperature che si aggirano più o meno sui 24-26 gradi. Poi sono consapevole che voi differenziate sempre costa est e costa ovest. Sicuramente sulla costa est se andiamo durante il loro periodo invernale dove i venti soffiano magari un po' di più possiamo avere 1-2 gradi in meno. Ma la temperatura si abbassa quando va via il sole quindi la mattina presto o durante la sera ma durante il giorno comunque la temperatura è sempre molto piacevole. Abbiamo anche due orari di alba e tramonto perché comunque va data anche questa informazione e la cosa principale è che per i clienti romanticoni che adorano vedere i tramonti va consigliata la costa ovest. Per coloro che invece adorano sfruttare tutta la giornata sull'isola e quindi svegliarsi presto al mattino la costa est ha delle albe che hanno dei colori che sono veramente strepitosi. Quindi ripeto per me Mauritius è una stagione vendibile assolutamente tutto l'anno. L'aeroporto non ha nulla che invidiare ai hub europei sicuramente un un aeroporto che hanno ricostruito un paio di anni fa l'hanno l'hanno rifatto completamente nuovo. La compagnia di bandiera Mauritius opera direttamente dalla opera direttamente da Charles de Gaulle da Parigi, Ginevra, Amsterdam e Londra anche più volte al giorno. Ci volano le compagnie di bandiera come Emirates, ci vola British, abbiamo comunque diversi modi per arrivarci. La stessa l'Italia fino a qualche tempo fa ci ha volato e quindi devo dire che abbiamo veramente tantissimi collegamenti. Dicevo l'aeroporto modernissimo, all'interno abbiamo diversi negozi quindi è proprio un hub internazionale. Mauritius, l'isola del sorriso come dicevamo prima, sicuramente la popolazione mauriziana fa la differenza sulla destinazione. Chi è stato in questa destinazione lo sa che i mauriziani sorridono sempre in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento e in qualsiasi momento anche della giornata li si incontri. Basta solo pensare in albergo, tutto lo staff dell'hotel sorride per qualsiasi cosa, quindi se si passa dal giardiniere alla persona che sta rifacendo la stanza al pescatore, hanno sempre un sorriso ed è un sorriso davvero che nasce dal cuore. Come ci si sposta la scoperta dell'isola? Dicevo prima, Mauritius è un'isola da scoprire non solo per stare in spiaggia fermi, certo spiagge meravigliose, dopo le andremo a vedere, ma è bello anche l'interno dell'isola ed è bello spostarsi da una spiaggia all'altra. In uno dei viaggi che ho avuto la fortuna di fare, ero con degli amici, abbiamo preso l'autista, che si guida a sinistra e non me la sentivo, era un po' di anni fa ed avevo paura a guidare, la guida è all'inglese diciamo, e quindi abbiamo preso l'auto con l'autista. Eravamo in cinque, ogni giorno arrivava l'autista e ci portava in una spiaggia diversa dall'altra. Abbiamo fatto anche più spiagge durante lo stesso giorno, siamo stati portati al mercato e quindi devo dire che girare l'isola è proprio un modo diverso di viverla. Spesso chi rimane fermo in hotel, se magari non trova tempo bellissimo tutta la settimana, ha comunque solo l'esperienza alberghiera, non certo di quello che è l'isola ad offrire. Quindi ci possiamo spostare noleggiando la macchina, con i bus pubblici, perché comunque i mezzi di trasporto di Mauritius ci sono questi autobus di linea che sono proprio così, con queste sembianze un pochino retro, funzionano benissimo. Magari non rispettano perfettamente gli orari indicati nelle tabelline, però devo dire che è un modo carino per muoversi. Spesso le fermate sono messe accanto alle strutture, agli ingressi degli alberghi, proprio anche per il personale che viene a lavorare. Oppure, perché se lo può permettere, un giro di Mauritius in elicottera per vedere tutte le sfumature dell'isola dall'alto. Una novità per i mauriziani è la metropolitana, che da tempo stanno aspettando la parte rossa e la parte che hanno già terminato. Devo dire che è un mezzo che per i turisti non sarà assolutamente utile, anche perché gira il centro dell'isola. Poi è importante per voi, per informazione, sapere che ci sarà sicuramente, per lui, in capitale, meno traffico dal momento in cui la metropolitana è attiva. Perché per chi è stato sull'isola ed è stato in capitale si renderà conto che è veramente caotica durante gli orari di punta. Con la metropolitana questo problema si va un po' a risolvere. Ma partiamo con la parte che ci fa più sognare in questo momento. Una destinazione per tutti, innanzitutto. Coppie, famiglie, gruppi, single che vanno a Mauritius, piuttosto che bambini, famiglie con bambini. È sicuramente una destinazione che ha delle strutture che possono accontentare tutti. L'isola è sicurissima, vanta degli ospedali che sono comunque di ultima generazione, quindi non c'è problema, non c'è nessun pericolo sanitario, non hanno animali pericolosi sull'isola. Devo dire che è proprio una destinazione da consigliare a chiunque. E poi perché no? Sposarsi a Mauritius? Yes, you can. Questa è un'immagine del San Regis. Sono diverse le località dove ci si può sposare, possiamo scegliere la location in spiaggia, possiamo scegliere la location all'interno, magari nella parte dei giardini più verdeggiante. Il matrimonio a Mauritius rispetto ad altre destinazioni è valido, quindi organizziamo tutto noi. Vi chiediamo solo di farci prevenire i documenti per tempo, li invieremo al nostro corrispondente, che li passerà poi in loco per tutte le procedure burocratiche, che sono la cosa più noiosa. Ma voi non dovete preoccuparvi assolutamente di nulla. Quello che chiediamo da qui ai clienti, oltre alla documentazione, è scegliere insieme la data. Ci sono alcuni alberghi che fanno one day, one marriage, vuol dire che fanno solo un matrimonio al giorno, proprio perché gli sposi quel giorno sono i protagonisti assoluti della giornata e anche dell'albergo. Perché se ci fossero due o tre spose nello stesso hotel, si perderebbe il fascino di essere protagonisti. E invece garantiscono proprio questo. Come dicevo, oltre a scegliere la data e la documentazione, chiediamo semplicemente di scegliere da qua solo le cose principali. Quindi se vogliono i fiori, se vogliono la decorazione in spiaggia, piuttosto che tutto il resto, però la tipologia di fiori, il colore, e se vogliono fiori a rocchiello a conciature e quant'altro, lo fanno in loco, dove un wedding coordinator li seguirà per i giorni precedenti al matrimonio. Si chiede solitamente di arrivare in hotel almeno due o tre giorni prima del matrimonio. I clienti verranno portati in capitale per firmare, un po' come fosse il nostro comune, per firmare i documenti, ma sono comunque accompagnati e nel prezzo del pacchetto è tutto incluso. Considerate che possiamo anche dare un traduttore per chi non vuole sposarsi in inglese. Quindi pensiamo a tutto noi e il costo di un matrimonio amoriscio, se decisamente più economico, di un matrimonio qui. Poi si può pensare di sposarsi da soli, i testimoni se non ci sono li trovano in loco, oppure si può pensare di portare tutti gli amici. Abbiamo organizzato qualche anno fa un matrimonio bello numeroso ed è stato bello per gli sposi poter vivere la settimana con i parenti. Poi hanno rispedito a casa tutti e loro hanno fatto la seconda settimana di luna di mieli da soli. Le spiagge più conosciute di Mauritius. Diciamo che faccio una bella carrellata di spiagge prima di parlarvi di un po' di alberghi. Questa è la spiaggia di Flick & Flack. La conoscete tutti, questo che vedete è l'hotel Lapirog, recentemente ristrutturato. La spiaggia proprio davanti alla Lapirog è veramente ampia. Andando più in su diventa spiaggia dello Sugar Beach, dopodiché c'è il Lilton. Però vedete già la differenza davanti alla Lapirog è decisamente più ampia che rispetto allo Sugar Beach. Considerate che le due strutture hanno la spiaggia in condivisione, quindi tutta una spiaggiona di due chilometri di lunghezza a disposizione per gli ospiti. La zona di Le Morne sotto il suggestivo Monte Le Morne. In questo caso qua è ripreso il Saint-Rigis. La zona di Belombre, questo è l'Eritage a Wallis. Siamo giù nella costa sud di Mauritius. Tanti di voi non la vendono mai perché si dice che il mare non sia bello, perché la spiaggia si dice non sia bianca. In realtà la spiaggia ha un colore un pochino più dorato rispetto alla spiaggia bianca di altre zone. Le strutture in questa zona dell'isola sono molto confortevoli, spesso offrono solo il trattamento all inclusive perché si è sicuramente distanti rispetto ad altre strutture. Considerate che l'isola è lunga poco meno di 60 chilometri, larga più o meno 45, ma da sud a nord dobbiamo considerare comunque due ore più o meno di strada perché solo un pezzo è fatto di autostrada. Quindi le strutture che sono nella zona di Belombre giù a sud sono delle strutture che sono ricche di comfort, di tutte le attività, di centri sportivi, spesso anche di golf, perché i clienti da qui possono magari muoversi una o due volte durante il soggiorno e poi vogliono godersi la spiaggia. Questa è la zona di Belmar, questo qua è il Lux, questa è la zona di Trollbish, dove c'è un rinomato albergo che non è più in nostra programmazione, ma è la stessa spiaggia che condivide il Cajuarina, che è un semplicissimo tre stelle che hanno appena rifatto. E poi le isolette a largo dell'isola di Mauritius danno giornate indimenticabili. Quindi chiunque sia andato a Mauritius ha fatto un'escursione in Catamarano. Queste sono il Ilo Gabriel e il Plat, dove si fa uno snorkeling eccezionale e dove è possibile nuotare in queste acque d'alcolore turchese. Questa qua è l'Ilde de Coco, che è un'isola privata della catena Lux, dove c'è una sola camera da letto su ed è possibile andarci per passare la giornata per fare snorkeling e stare in completo relax, comunque fare un'uscita dal proprio resort. E poi l'immancabile Isola dei Cervi, che è straconosciuta da tutti. Le escursioni, come dicevamo, sono sole, snorkeling e room, un pochino come abbiamo fatto noi. Il nostro cocktail a bordo ne versano a decine e decine, però questi sono i colori di Mauritius. Quindi quando mi sento dire, no Mauritius non darmela perché il mare non è bello, viene nervoso sentire queste frasi, perché davvero il mare di Mauritius ha questi colori. Certo, bisogna a volte magari uscire in mare davanti alle strutture, non tutti i punti mare sono eccezionali, ma quando si è in acqua con questi colori, con un reef che è vero, sicuramente non è un reef delle Maldive, e di questo qui ne sono assolutamente consapevole, ma pinneggiare in mezzo ai pesci con questi colori intorno sembra davvero di essere in una piscina. Tra le isole private, quelle in fondo che vedete, è questa qui, è l'Homongenie, che è un'isola privata che appartiene al Tues Rock, che è un albergo situato sulla costa est. Il Tues Rock, lo vedete qui sotto, è un'isola situata poco prima dell'isola dei Cervi, dove i clienti dell'albergo possono essere portati per trascorrere la giornata. Lì succede un ristorante e quant'altro. Mauricio soffre molto più del mare, come dicevamo, quindi il suo interno necessita davvero una visita, bisogna visitarlo almeno uno o due giorni, bisogna staccarsi dalla spiaggia, e ve lo dice una che rimarrebbe in spiaggia tutto il giorno, però sicuramente ha dei punti panoramici da dove osservare l'isola, ma ha un interno veramente rigoglioso. Come prima cosa, canna da zucchero. Vedrete questi campi immensi di canna da zucchero ovunque, per le strade, quando vi spostate da un resort all'altro, a destra e a vostra sinistra avete questi canni da zucchero da un colore verde, in alcuni casi quando il tempo, magari come in questa immagine, è un pochino nuvoloso, il colore della canna da zucchero verde diventa quasi un verde acido, quindi c'è questo contrasto tra il cielo e le montagne che è veramente acceso. Andiamo, facciamo un giro partendo dalla parte giù a sud, qua abbiamo le cascate che incontriamo prima di arrivare alle terre colorate di Shamarelle, lo so che non sono le cascate del Niagara e neanche le Victoria Falls, assolutamente, però è un'isola comunque piccola che ha tanto da offrire, e loro vantano questa loro piccola cascata, che chiamano il velo di sposa quando è pieno, e devo dire che quando si è lì, anche con questi effetti arcobaleno che si formano, è comunque molto piacevole da vedere. Le nominavo, le terre colorate, eccole qui, siamo nella parte di Shamarelle, in tutte le immagini sembra sia un post enorme, quando si è lì si dice, ah, sono così piccole. Questo è un fenomeno naturale, ci sono, chiamano terre da sette colori, ma qualcuno ha studiato che sono anche dieci tonalità. Si narra, nessuno può toccarle adesso, perché sono comunque state recintate, perché era un fenomeno da proteggere, sono proprio al centro-sud dell'isola, e la cosa carina che si dice è che se si smuovono le terre colorate, mischiando i colori, durante la notte, loro si ridividono nuovamente. Sicuramente da visitare la zona di Boacherie, dove viene servito un tè da un sapore inebriante, è un sapore sicuramente inconfondibile, io ho sempre nella mia dispensa, mi accompagna soprattutto durante l'inverno quando voglia di sentirmi nella mia seconda casa. Si possono visitare delle piantagioni di tè e ci si può fermare a bere del tè, è proprio una tradizione locale, il tè mauriziano. Nella zona, invece, salendo un po' più su, andando verso la parte di Flick and Flack, diciamo, arrivando dal sud, andando verso nord, sempre nella costa ovest, incontriamo il Casella. Il Casella che è un parco naturale, dove ci sono all'interno diverse attività da poter fare, come vedete ci sono i segway, c'è la possibilità di girare in quad, camminare e visitare gli animali, e io ho fatto l'esperienza con Gheppardo, c'è un leone albino, è possibile fare la camminata. Queste si possono prenotare con largo anticipo, tramite il nostro corrispondente e soprattutto per chi ha i bambini, soprattutto per chi ha ragazzini che vogliono fare qualcosa di differente, è sicuramente un'esperienza graziosa. Qua invece siamo nella zona di Bobossain, questo qui è il Lago Sacro ed è sicuramente una delle divinità più visitate anche dai locali. Qui abbiamo la statua di Shiva, una delle più alte, 33 metri d'altezza, le scimmiette che vedete lì sono delle scimmiette che vi accompagnano quando siete al parcheggio, molto furbe, se avete da mangiare vi fregano qualsiasi cosa, abbiate in mano. E queste sono delle divinità da andare a pregare, scusate, il Lago Sacro di Gran Bassin. E oltre a questa divinità c'è la divinità della prosperità, la divinità della musica e se si capita qui durante i giorni di festa è proprio uno spettacolo vedere tutta la popolazione che viene ad omaggiare i doni alle divinità. Spostandoci invece verso nord andiamo in Capitale. Andiamo in Capitale che por lui, una capitale molto caotica come dicevo prima, è sicuramente il fulcro di quello che è tutta l'economia della destinazione. abbiamo un waterfront dove ci sono dei negozi modernissimi, dove è possibile trovare dei caffè, dei ristoranti, c'è una possibilità appunto di fare una vita un pochino più europea. Quello che magari non ci si aspetta da Mauritius è proprio questo, trovare magari una città un pochino europea. E devo dire che negli anni, io ormai ci vado da vent'anni, perché la mia prima volta è stata nel 2000, è cambiata completamente. Quindi ogni volta si trova sempre quel moderno in più, a volte quasi mi infastidisce questa cosa, dire ma come, posso andare a giocare a bowling, ma posso andare al cinema, Mauritius. Giustamente per loro è qualcosa di nuovo, è la novità e man mano ci sono sempre dei posti molto moderni, alla moda, dove è carino comunque anche andare a cena. In contrapposizione al Cadam Waterfront abbiamo il mercato locale, si trova proprio dall'altra parte, c'è un passaggio sotterraneo, dove è possibile arrivare al mercato, c'è la prima parte dove c'è tutta la verdura, è impressionante vedere l'ordine maniacale con il quale sistemano frutta e verdura. Se vedete anche l'immagine sotto delle carote sono tutte in fila, sono tutte in ordine, queste scarole sembra che siano un bouquet di fiori, dove c'è tutto l'artigianato locale e spesso i prodotti possono arrivare anche dal vicino Madagascar, tutti personalizzati e il cliente spesso magari va al Waterfront a fare un giro ma per fare gli acquisti e portare a casa dei souvenir magari non acquista nelle gioiellerie del Waterfront ma viene qui al mercato locale dove può trovare diverse soluzioni a prezzi anche interessanti. È possibile prendere il cocco fresco, farsi servire del cocco fresco e quella invece che vedete a destra è un'esposizione di Porlui con tutti questi ombrelli, spesso l'abbiamo vista anche in altre città e devo dire che è divertente scattarci delle foto sotto. Mauritius è molto su Instagram ha diverse pagine seguita da tantissimi e se vi capita di mettere l'hashtag Mauritius vedete che ci sono dei luoghi e degli angoli che non vi aspettate e dite ah questo è Mauritius e forse vi verrà ancora più voglia di raggiungerla. Andando leggermente più a sud ci sono i giardini botanici di Pamplemousse questi sono must per chi è stato per chi va per le prime volte a Mauritius deve andare a vedere i giardini botanici ci sono circa 500 piante esotiche ci sono delle felce altissime c'è un vialone tutto pieno di palme e sicuramente la zona la parte delle ninfe è quella più più bella da vedere ecco queste qui sono alcuni punti dei giardini botanici quindi uno stop sicuramente va fatto bisogna anche uscire dalle strutture altra tappa fondamentale invece a Mauritius sono le case coloniali questa qui è l'Eureka all'interno è possibile fare una visita per rendersi conto di come erano abitate le case ai tempi coloniali andando invece sempre più a nord c'è uno dei punti che fanno proprio impazzire dell'isola adoro e cerco sempre di andarti ogni volta che vado sull'isola che è la Notre Dame ausiliatrice si trova proprio il punto estremo nord dell'isola vedete di fronte c'è l'isola di Coindemir è sicuramente bellissima da vedere quando il quando il sole è proprio in alto perché si vede benissimo il tetto rosso in contrapposizione col blu del mare e del cielo devo dire che è proprio una chicca da visitare e poi ci sono i fari di Mauritius uno è proprio Hill of Har che è un'isoletta sulla quale è situato il faro e l'altra invece è il faro di Albion e vi farò vedere a breve dove l'ho visto recentemente abbiamo anche due patrimoni unesco a Mauritius uno è il Montbreband molto famoso ci si può salire sopra ma è famoso ed è diventato patrimonio unesco per quello che accadde il primo febbraio del 1835 quando praticamente la polizia andò per comunicare agli schiavi che si erano rifugiati quassù perché erano stufi di essere schiavi andò a comunicargli che era tutto finito che la schiavitù finalmente era stata abolita loro nel vedere dall'alto la polizia pensarono che stavano andando a prenderli e quindi molti di loro si buttarono giù e persero la vita in un momento in cui stavano davvero dicendogli che la vita gli sarebbe cambiata da un momento all'altro e sempre legato allo stesso motivo abbiamo questi questi edifici storici la Pravajigat che si trovano a Porlui di fronte alla capitale dove vennero diciamo così registrate le prime persone indiane che arrivavano per lavorare qui al termine della schiavitù degli africani quindi sono state utilizzate come punto di smistamento per i nuovi lavoratori e questi due sono proprio due simboli e patrimonio unesco della destinazione quindi un'isola così piccolina che comunque a due siti patrimonio unesco le fa vanto e poi il siga patrimonio immateriale lo chiamano dell'unesco è questa danza tipica mauriziana che ballavano gli schiavi durante la coltivazione durante la raccolta della canna da zucchero è una sorta per chi ha visto qualche rappresentazione durante le serate in albergo è una rappresentazione anche abbastanza sensuale scusate dell'uomo appunto che corteggia queste ballerine con questi abiti bellissimi e si muovono in modo molto sinuoso e loro si divertivano nonostante lavorassero in mezzo ai campi hanno creato appunto queste danze che sono tuttora simbolo della destinazione è vero sì che sono magari delle danze dopo una o due volte ok va bene basta perché comunque sono danze tipiche locali ma cosa hanno fatto i giovani che non apprezzano più magari questa modalità di danza un po' un po' retro per loro hanno ricreato un siga in modo reggaeton quindi i mauriziani che adorano rimanere sulla spiaggia andare a fare i falò fare i barbecue in spiaggia e altro la parte più giovanile dell'isola rispetta comunque le tradizioni hanno reinventato appunto un siga sotto forma di reggaeton quindi un modo differente per loro di vivere comunque questa danza di farla andare avanti Mauritius è l'isola preferita dai golfisti sappiamo bene che chi pratica golf è comunque solitamente un cliente con facoltà economiche abbastanza alte quindi se avete dei clienti golfisti che magari scelgono il Sudafrica come destinazione che magari vi scelgono altre mete cercate di dirottarli verso Mauritius è sicuramente una destinazione con tantissimi campi da golf inseriti in location strepitose perché questi campi da golf quasi tutti a 18 buche e la maggior parte li troviamo di qua sulla costa est altri sono anche all'interno dell'isola e diamo la possibilità al cliente di godere di una di una spettacolare destinazione dove fare un soggiorno bagnare contemporaneamente insieme a un soggiorno golf un'isola per gli sportivi o comunque un'isola per chi si vuole muovere ritornando al discorso di prima che Mauritius non è stare solo fermi sotto l'ombrellone oppure a crogiolarsi al sole e abbiamo questi scooter sottomarini che si sono inventati che sono molto simpatici per chi non sa fare snorkeling oppure chi non sa appunto nuotare o chi non vuole fare immersioni la camminata sottomarina come vedete sopra viene messo questo scafandro e si scende giù sott'acqua a vedere i pesci la pesca del marlin che è sicuramente una delle delle attrazioni sportive più in voga sull'isola il marlin è questa sorta di specie spada e devo dire che spesso vengono fatte anche delle competition quindi è molto molto apprezzata si fanno proprio queste uscite alla pesca grossa e poi il kitesurf la vicinissima Rodriguez che fa parte comunque di Mauritius un'isola raggiungibile più o meno a 45 minuti di volo è proprio la patria dei kitesurfisti però anche la zona di Le Morn e comunque anche altre zone dell'isola permettono di fare kite se avete anche dei ragazzi giovani che vogliono fare kite è una destinazione da suggerire altre cose da poter fare è la zip line passeggiate a cavallo piuttosto che il giro dell'isola fatto in quad per proprio all'interno dell'isola dove c'è questa dove ci sono queste montagne molto verdeggianti poi è possibile nuotare sicuramente con i delfini si esce spesso prestissimo la mattina e quando mettono le sveglie presto dicessi così presto però la sveglia presto in vacanza non è mai piacevole ma quando poi ci si trova in acqua con tutti i delfini è decisamente piacevole e uno dei punti dove se ne trovano di più è i lobenitie questa roccia che si trova nella parte sud dell'isola dove si va a nuotare con i delfini c'è una leggenda che narra che se si nuota qua e si fa un giro intorno a questa roccia si torna a Mauritius io ogni volta che vado cerco di farmi ci portare per essere sicura di tornare presto in quest'isola e poi un'isola da film ecco prima vi parlavo del faro di Albion l'ho visto proprio l'altro giorno non avevo visto questo film si chiama Serenity l'isola dell'inganno non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di vederlo parla appunto di quest'isola di quest'isola particolare senza spiegare dove pare sia nella zona dei Caraibi e invece le prime immagini fanno proprio vedere il faro di Albion piuttosto che l'isoletta di Cap Malrose e ai miei occhi è assolutamente ingannevole non posso non scoprire di che isola si sta trattando invito magari a vederlo è un thriller è carino ma più che altro per vedere delle zone di Mauritius che magari non conoscete questo qua è il Zagra Point da dove appunto ci si può tuffare e ci sono all'interno del film ci sono delle immagini che lo fanno vedere quindi questa scogliera strapiombo adesso andiamo a vedere un pochino di alberghi facciamo una carrellata di hotel dicevo prima che voi dividete sempre la costa est dalla costa ovest o nel fare questa presentazione mi sono resa conto che sulla costa est ci sono davvero tantissimi alberghi tra i migliori dell'isola adesso li andiamo a vedere quindi buttateci un occhio con me fateci caso e non a caso le catene alberghiere più prestigiose hanno scelto di costruire sulla costa est alcuni tra i primi resort sono proprio alcuni sono proprio hanno proprio scelto delle location le più belle in assoluto perché sono i primi alberghi ad essere stati costruiti mi distraevo da qualcuno che ha scritto visto il film che è terribile vabbè ma noi lo vediamo lo guardiamo per vedere Mauritius non per vedere questo thriller e condivido comunque allora dicevamo Bubble Lodge per chi non li conoscesse sono è una struttura che si può trovare o all'interno di Wosheri quindi nella zona delle piantagioni da te la immagine di destra dove c'è questo verde strepitoso piuttosto che sull'isola dei cervi quindi alla vista dalla nostra camera da letto fatta in questa bolla avrò questo mare dal colore turchese che posso ammirare dal letto contemporaneamente mentre sono ai piedi di questi fila o che sono questi alberi di casuarina che sono proprio una caratteristica dell'isola di Mauritius non si fa una settimana al Bubble Lodge è un modo per passare una o due notti in una location completamente diversa solitamente non si lascia nemmeno resorta meno che voi non decidiate di fare il giro dell'isola e dormire in più tappe altrimenti pago comunque tutto il soggiorno in albergo prendo le mie poche cose che mi servono per trascorrere una notte qui e può essere sicuramente una sorpresa che potete consigliare i vostri clienti di fare al proprio partner che viaggia insieme a loro piuttosto che se degli amici vogliono fare durante la lista nozze un regalo o qualcosa di particolare viaggiamo sui 350-400 euro a notte quindi devo dire che è un'esperienza graziosa e tutti quelli che l'hanno fatta sono rimasti veramente entusiasti andiamo a vedere come dicevo prima i resort appunto più esclusivi dove l'autenticità mauriziana che è proprio una cosa che secondo me è un must degli alberghi quando vado in quegli alberghi e non respiro quell'atmosfera mauriziana mi manca un pochino quel calore e quell'accoglienza che contraddistinguono questa destinazione strepitosa questo ad esempio è il one and only siamo sulla costa est come vedete Mauritius è veramente diversa da tantissime altre destinazioni non ci capita spesso di trovare un resort su un angolo così di costa se guardate tutto il quello che rimane sul retro è tutto verdeggiante con queste forme particolari e il one and only ha una spiaggia strepitosa come vedete a destra c'è anche l'eliporto perché chi volesse fare i trasferimenti dall'aeroporto in elicottero possiamo tranquillamente accontentarlo quando ho visto il mare del one and only ho pensato che il mare dei ricchi è sempre più bello perché sicuramente è una delle strutture più esclusive il colore del mare della spiaggia qui sono veramente affascinanti da rimanere a bocca aperta nulla è lasciato al caso tutto è veramente così curato queste piantagioni di palme le si trova veramente nei resort un po' un po' ovunque nei resort quelli più grandi e devo dire che è veramente un ha un servizio eccezionale un sicuramente la caratteristica che ciò che caratterizza il one and only che le contraddistingue è la zona sportiva nella parte retro dell'albergo abbiamo la zona sportiva che è questa dove vediamo i campi da tennis in tutti questi pavilion che vedete accanto al campo da tennis sono situate palestre campi da squat hanno veramente un centro sportivo enorme ed è incluso non si dice gratuito incluso nella tariffa non si dice gratuito perché un tempo mi hanno corretto un'agenzia un cliente un viva voce con un'agenzia e anni fa un cliente ha detto non è gratuito con quello che pago me lo pago sicuramente gratuito quindi è sicuramente il one and only un resort che ha tanto da offrire quindi dicevamo sicuramente un punto a favore in più oltre tutto quello che offre già la parte sportiva e anche la possibilità in questo caso è un'attività a pagamento di andare con uno chef al mercato in un mercato che non è di quelli turistici si va in un mercato locale si sceglie la frutta e a differenza magari di altri resort dove il cliente cucina anche in questo caso è lo chef che ti cucina gli ingredienti che ti ha comprato e ti prepara una cena magari anche a livello stellato proprio perché il cliente di one and only non ha voglia di mettersi a cucinare cosa che invece magari possono fare i bambini ecco il kids club delle one and only prevede le attività per i bambini di cucina in questo caso di cottura della pizza e altro altra struttura di un livello veramente altissimo è il Prince Maurice che sono sicura che conosciate catena Constance le camere che vedete qui sono nella zona laguna è super apprezzato per il servizio da guanto bianchi davvero è un resort di una raffinatezza imbarazzante addirittura questo servizio di una piattaforma in mezzo al mare con un unico ombrellone con due sdraio dove il cliente viene portato e rimane lì per il tempo che vuole a trascorrere una mezza giornata o una giornata in completa privacy quello che probabilmente il punto il fiore all'occhiello diciamo così ho voluto mettere di fiore all'occhiello per ogni resort è il le barachua floating bar che la sera diventa ristorante quindi durante il giorno è un bar ma durante la sera l'atmosfera che si respira è questa ed è veramente romanticissima sfido chiunque a non voler fare una cena romantica qui sicuramente non ha il punto mare più bello dell'isola il Prince Maurice è una struttura che ha un riempimento veramente altissimo ed è una struttura di repeaters chi soggiorna al Prince Maurice difficilmente vuole cambiare albergo quando torna sull'isola altra struttura di un livello veramente alto il Four Seasons devo dire che sono rimasta un po' delusa da quella che era la spiaggia Four Seasons Anahita and Golf Resort perché comunque come vedete la spiaggia di un resort così grande è solo quella lì davanti e quindi uno dice un albergo così prestigioso con delle camere che sono spettacolari ha però una spiaggia così piccola e adesso vi dico però il fiorell'occhiello della struttura queste sono le ville tutte le camere hanno comunque la piscina privata tante camere sono in mezzo alla vegetazione non sono neanche vista mare proprio perché come avete visto dall'immagine di prima tante camere non sono proprio fronte mare ma sono all'interno dell'isola alle spalle del resort c'è appunto il campo da golf con queste pozze con questi corsi d'acqua dove giocare a golf diventa sicuramente più interessante ma il fiorell'occhiello della struttura è questo hanno preso sette ettari sull'isola dei cervi nella zona non turistica non dove arrivano tutti i clienti a fare l'escursione sull'isola dei cervi che conosciamo noi e hanno costruito questo barettino che è delizioso con musica sempre molto alta con queste altalene con room servito durante tutto il giorno e devo dire che è stata veramente una bellissima scoperta con queste altalene il servizio è sempre da four season ed è comunque impeccabile è un pochino più rilassato rispetto a quello che si respira in albergo in questa parte dell'isola ci sono dei bagni dove potersi cambiare il costume e c'è la possibilità di fare questi light lunch che vengono preparati qui quindi a finger food ci sono delle sdraio degli ombrelloni e avere un pezzo di isola dei cervi privata per i clienti è sicuramente il valore aggiunto quindi possiamo venderlo anche per la spiaggia perché sono davvero solo 5 minuti di barca altra struttura da segnalare è sicuramente il twist rock l'abbiamo nominato prima per il homogenie il twist rock che adesso appartiene alla catena Shangri-La la spiaggia è veramente scusate andate avanti di uno la spiaggia dicevo del twist rock è veramente strepitosa il bianco è davvero bianca qui la spiaggia prima parlavamo dei colori più ambrati della costa sud qua la spiaggia è strepitosa e l'isola è divisa su più parti quindi c'è un'area dedicata solo agli adulti per un'atmosfera un pochino più rilassata e come dicevamo anche loro hanno quest'isola privata che si chiama il homogenie ma per chi volesse andare invece sull'isola dei Cervi dove hanno il campo di golf dove hanno il loro campo da golf c'è una navetta che porta i clienti anche sull'isola dei Cervi anche i non golfisti possono andare sull'isola dei Cervi questa invece è la spiaggia del Constance Belmar Plage so che conoscete benissimo anche questo perché ci sono alcune catene che conoscete di più e siamo anche qui sulla costa est questa è un'immagine la prossima è un'immagine dall'alto della spiaggia dove c'è il punto più il promontorio quello più ampio poi so bene che in alcuni punti la costa est è stata un pochino mangiata dal mare però è solo una parte di spiaggia come vedete in alcuni punti è decisamente più larga e il mare qua davanti è comunque strepitoso ha dei colori meravigliosi non voglio fare una presentazione sulle camere perché tanto in questo momento vogliamo solo sognare e rinfrescarci un po' quello che sono le destinazioni che conosciamo ma volevo farvi vedere le camere prestigio che hanno rifatto del Constance Belmar quindi i colori adesso sono belli chiari sono molto tenui quindi la struttura è stata recentemente ristrutturata e si presenta così quindi molto freschi molto moderni sicuramente il fiore all'occhiello della destinazione è il campo da golf che ne hanno due il The Legend e il The Link che sono proprio dall'altra parte della strada quella che vedete qua in mezzo è praticamente la strada che passa che taglia in due appunto il campo di video il campo da golf dal resort quindi la cosa bellissima è che i clienti possono stare in hotel magari le donne se ne stanno alla spa piuttosto che in spiaggia mentre invece gli uomini che adorano giocare a golf attraversano la strada e sono qui e c'è anche un ristorante all'interno quindi i clienti possono venire a pranzare per avere anche uno scenario differente dal solito quindi pranzare con una vista golf è sicuramente piacevole e fiore all'occhiello oltre al campo da golf è sicuramente la loro wine cellar è una wine cellar dotata di tantissime etichette di vini c'è la possibilità di organizzare delle cene in compagnia oppure delle cene romantiche a me piacciono sempre tantissimo le wine cellar e soprattutto rimango stupita quando su queste isole si trovano tantissime etichette di vino da anche per il bevitore più esigente che controlla il tutto questo abbiamo visto anche prima un'immagine parliamo del lux belmar conoscete tutti il fiore all'occhiello sono sicuramente la personalizzazione del lux quindi la gelateria piuttosto che questi messaggi in the bottle che vengono messi spesso nel nel giardino piuttosto che vicino alle camere dei clienti o nell'acqua all'interno ci sono dei messaggi per i clienti dove magari dicono vai al bar a prendere il tuo cocktail oggi ti offriamo questo anche per i bambini spesso quando vedono i bambini magari mettono un messaggio e sono contenti possono andarsi a prendere un gelato e quant'altro questa qua invece è un'immagine dell'alto del long beach siamo sempre sulla costa est tutti i resort che vi ho fatto vedere fino adesso sono sulla costa est e ho veramente menzionato degli alberghi di livello eccelso se me lo permettete soprattutto quelli di categoria alta alta e per questo vi prego di notare quando dite no la costa est non la vogliamo vendere di ripensarci quando lo dite ripensate un po' questa presentazione e vedrete che sicuramente i clienti ne rimarranno entusiasti ma ripeto sicuramente un pochino più ventosa in alcuni periodi dell'anno però è estremamente bella questa è la spiaggia del long beach che appartiene alla catena sun resource è una delle poche strutture dalle quali si può fare snorkeling è una delle strutture dove c'è un'alba strepitosa e ho fatto l'esperienza di vedere albeggiare dalla canoa quindi c'è un'esperienza per pochi c'è solo in sei la si può fare ci si prenota il giorno prima o qualche giorno prima e poi con la nostra canoa aspettiamo l'alba direttamente dal mare è un'esperienza meravigliosa poi si torna che sono magari le sei meno un quarto a seconda del periodo in cui si va e si rimane sulle sdraio a dormicchiare e aspettare che il sole ci si riscaldi prima di andare a fare colazione per avere un'esperienza da fare veramente e poi questa sono io sempre a Long Beach con questo posto molto instagrammabile dove ci sono sparsi in albergo qualche day bed ad ondolo così per l'hotel per rilassarsi o semplicemente farsi qualche foto da postare per suscitare un po' di invidia per chi è a casa ma il fiore all'occhiello del Long Beach è sicuramente la spa che è situata nella parte retro del resort dove c'è prima di arrivare alla spa c'è tutta un'area con il kids club con addirittura la parete di arrampicata rocciosa una piscina olimpionica per chi vuole fare semplicemente le vasche a allenamento una bellissima palestra e poi questa spa che ha alcuni lettini proprio sparsi in mezzo alla natura dove si è il suono degli uccelli a fare compagnia al fruscio delle foglie veramente strepitoso e poi abbiamo l'altra struttura qua ci stiamo spostando siamo nella zona di Le Morn questo qua è il San Regis siamo ai piedi delle Morn in questa struttura che devo essere sincera perde un pochino quello che è la caratteristica lo stile coloniale di Mauritius ma anche a livello di servizio però è un servizio impeccabile perché stiamo parlando di un San Regis quindi comunque di un 5 stelle lusso ha una piscina enorme ha una privacy assoluta per i clienti alcune camere sono inserite in palazzine sulla spiaggia altre invece nella parte qui a destra che vedete e il San Regis è il tramonto questa è una mia foto non è ritoccata lo sono andata a recuperare prima senza fare nessun tipo di ritocco e ricordo che mentre eravamo in camera dovevamo prepararci per la cena abbiamo visto dalla finestra non avevo una camera a fronte mare io ero un pochino più indietro ho visto il riflesso in una camera di fronte tutto un ruolo sembrava fuoco ma cosa sta succedendo sta dando fuoco qualcosa ci siamo affacciati e abbiamo visto tutti che correvano con gli accappatoi perché era tutto orario della doccia proprio con gli accappatoi sul asciugamano in testa e quant'altro ad ammirare questo tramonto che era strepitoso quindi uno dei fiorell'occhiello è questo e l'altro invece che mi piace ricordare come momento questo è Luca il nostro promotore delle Marche e Abruzzo durante il famtrip proprio in quel famtrip dove c'era quel famoso tramonto ci hanno accolto così facendoci sciabolare hanno scelto 5 o 6 di noi eravamo in 10 e abbiamo sciabolato 5 bottiglie di champagne è carino come cosa è carina anche per il cliente lo si può organizzare è un servizio che per i clienti viene fatto a pagamento ti danno anche alla fine un piccolo diploma diciamo che ho portato a casa ho messo di vicino la cantina di vini però è sicuramente carina come cosa dei clienti apprezzano molto perché oltre a noi c'erano delle coppie che lo stavano facendo e tutti sciabolano la loro bottiglia e dopo bevono tranquillamente prima di andare a cena in un'atmosfera che è veramente molto molto rilassante ci spostiamo invece sulla parte ovest questa è un'immagine simile a quella di prima dicevamo davanti alla pirogue dove a mio avviso stiamo parlando di una delle spiagge più ampie e più belle di tutta di tutta l'isola la pirogue che è stato di recente ristrutturato adesso è molto molto moderno molto modaiolo lo Sugar Beach invece che si trova accanto andando su verso nord in questa immagine è chiuso al momento per i lavori di ristrutturazione quindi credo riaprirà se non erro ad ottobre per essere completamente finito e diventerà un ottimo 5 stelle vi ricordo che loro hanno i servizi in comune quindi avere due chilometri di spiaggia diversi ristoranti queste sono le camere dello Sugar Beach per chi fa questa destinazione e chi la vende da tempo si ricorderà le camere dello Sugar che avevano un colore abbastanza cupo li stanno rifacendo tutte così giusto per darvi un'idea di come sarà invece per chi cerca degli hotel un pochino più economici però che mantengono le traduzioni mauriziane il gruppo veranda questo qui ad esempio è veranda Pointe-O-Biche siamo nella parte nord-ovest siamo nella zona di Pointe-O-Biche il punto mare non è sicuramente più bello dell'isola ma siamo a 5 minuti da Gran B dove comunque anche lì abbiamo delle strutture con delle spiagge che non sono belle a livello di strutture che abbiamo nominato poco fa però è una caratteristica questa struttura è un resort forse l'unico a Mauritius dove si può stare a piedi scalzi perché ha sabbia ovunque anche nella parte del ristorante quindi volendo il cliente potrebbe stare tranquillamente tutta la vacanza scalza un po' Maldivian style altra struttura questa qui è una novità l'ho visitata a settembre l'anno scorso non ha tantissimi anni questo resort credo abbia a meno di 10 anni sicuramente si chiama Zilua e fa parte della catena Attitude anche lui non ha una spiaggia enorme la si vede però ha una caratteristica di avere questa isoletta piccolina che si chiama Gran Zil dove c'è allestito un barbecue tutti i giorni verso il pranzo viene allestito questo barbecue ci sono delle amache qualssù è possibile fare i matrimoni e su Petite Zil che è quest'altra isoletta piccolina invece vengono messi due lettini per fare i massaggi quindi le camere sono decisamente moderne è un 4 stelle adatto a tutti coppie famiglie single gruppi davvero una struttura con un servizio molto alto un servizio sicuramente da un 5 stelle mauriziano visto che a Mauritius il servizio è veramente alto e poi invece ci sono delle strutture comunque più piccoline più graziose questo ad esempio il Recif si trova nella parte nord ovest sempre nella zona di Pointe-au-Biche la spiaggia è piccolina ma la struttura stessa è piccolina e abbiamo anche la possibilità qua di fare dello snorkeling piuttosto che il Friday Attitude che qualcuno di voi ricorderà come il Bougainville un tempo si chiamava così l'hanno completamente rifatto è piccolino ma ha tutto ma più che altro ha una spiaggia strepitosa e poi offrono la possibilità delle esperienze è proprio una struttura dicevo prima l'autenticità mauriziana questa sono ancora io che faccio del pollo al curry durante una giornata è una delle attività che si può fare una delle attività incluse ci si prenota e poi noi abbiamo voluto assaggiarlo spesso i clienti magari non lo mangiano nemmeno e vanno a mangiare ma provano solo l'esperienza culinaria di prendere tutti gli ingredienti lo chef rimane lì accanto e tu sei lì che spadelli hanno veramente diverse questi atti danno diverse cose tipiche perché credono proprio nell'autenticità mauriziana quindi danno la possibilità di cucinare danno la possibilità e ho fatto anche quell'esperienza di è una cena che viene fatta a casa non degli abitanti normali ma dello staff dell'albergo proprio per essere comunque sicuri che si va a casa di persone che abbiano tutto in modo in modo adeguato per poter aspitare anche i vostri clienti e noi siamo andati a casa di quello che era il barman del della Venala Attitude dove c'era ad accoglierci la moglie c'erano i due figli e a un certo punto sono arrivati tre quattro parenti dei ragazzini vestiti di tutto punto con la chitarrina e hanno improvvisato un simile concerto mentre loro ci hanno fatto vedere come fare il pollo al carry anche in quel caso hanno apparecchiato abbiamo mangiato su quella che è una copia di una foglia di banano perché ovviamente per una questione igienica avevano invece questi fogli a forma anche col colore che sembravano foglie di banana e abbiamo mangiato una mauriziana quindi con le mani a casa di mauriziani che è un'esperienza che si può fare ed è molto più piacevole per chi parla inglese è nata così voi hanno detto ma sì stiamo poco è una cosa così sarà una noia non volevamo più tornare a casa siamo tornati a casa siamo tornati verso mezzanotte ci siamo divertiti come matti perché poi c'erano dei giovani hanno messo la discoteca dalla musica dal vivo si è trasformata in una discoteca abbiamo fatto sentir loro delle canzoni italiane con la nonna ottantenne che ci guardava con l'occhio un po' così abbiamo indossato gli abiti tipici il sari mauriziano ed è stato veramente un momento di momento per vivere come loro una serata differente mauriziana e devo dire che avendo degli amici mauriziani è stata realmente così non è una finzione quindi tutto nasce molto spontaneamente poi c'è il cliente che magari dopo aver cenato torna dietro torna via e invece chi ha piacere di rimanere lì a chiacchierare quindi credo di essere rimasta nei tempi e questa è un'immagine di Mauritius con la quale voglio salutarvi questo effetto ottico della cascata underwater waterfall come la chiamano che è un effetto nella zona di Le Morn sembra proprio che ci sia una cascata sottomarina invece è semplicemente un'illusione ottica però è sempre bella da vedere queste frasi di stay at home now anche se siamo liberi rimaniamo a casa facciamolo per noi visit Mauritius later quindi secondo me spero di avervi passato un po' di mia passione per questa destinazione io adoro Mauritius ne sono veramente follemente innamorata tanto che ci andrei a vivere e spero davvero di avervi passato un po' di questa emozione per questa destinazione se avete delle domande io ci sono qualcuno prima chiedeva per i costi dei matrimoni dipende dal da cosa vogliamo organizzare per i matrimoni alcune strutture tipo gli attitude che dicevo prima la parte della cerimonia è addirittura gratuita e i clienti pagano solamente le spese legali le spese legali parliamo sto in linea aumento un po' di più siamo sui mille euro più o meno quindi comunque con mille euro tra spese legali riusciamo a fare tutto poi per quanto riguarda invece la la celebrazione lì dipende davvero dai gusti del cliente si può fare davvero tutto qualcuno mi chiede tra Fic e Flac e la costa est cosa scegli per mare e spiaggia Fic e Flac vincono durante il periodo e lo dico anche l'invernale di Mauricio se vuoi avere qualche ora di sole in più un pochino più di di essere un pochino più riparata dal vento ma per me vince la costa est il colore del mare il riverbero del sole che ha sul mare nella costa est vince secondo me le spiagge sono veramente strepitose quindi io veramente voto per la costa est quindi grazie grazie davvero a tutti mese il più piovoso mese il più piovoso ahimè è il mese per loro di altissima stagione quindi tra gennaio e febbraio che è considerata peak season per Mauricio però c'è la possibilità di trovare delle piogge se si è sfortunati addirittura se è possibile trovare il un ciclone il passaggio di un ciclone che spesso dura magari 4-5 giorni quest'anno è proprio passato nel periodo di capodanno però tra gennaio e febbraio quando invece il clima è se siamo fortunati da non trovare così tanta acqua fa veramente caldo secondo me uno dei mesi più belli per vederla è dicembre sicuramente il mese di dicembre sicuramente il mese di marzo e aprile sono i più belli se il cliente invece vuole una zona dove ci sia un minimo di vita dobbiamo andare nella parte nord ecco Mauricio non ha questa vita come la possiamo immaginare noi di locali o altro ha dei localini dove poter alternare sicuramente la dove possiamo alternare sicuramente la vita del resort che è un pochino più tranquilla a Granby esistono dei ristoranti c'è anche una zona con dei centri centri commerciali più che altro il bowling dove se il cliente vuole sentirsi un pochino europeo lo può far tranquillamente però sicuramente Granby è considerata la costa azzurra mauriziana oppure nella zona di Flick and Flack vicino alla vicino alla piroga non lontano dalla piroga e dallo sugar beach ci sono diversi ristorantini dove la sera comunque c'è anche un po' di di intrattenimento alcuni alberghi hanno anche un intrattenimento adesso un pochino più moderno dal classico spettacolo di Siga si pensa ad esempio torno a ripetere tipo lo sugar beach al Buddha bar dove c'è la musica dal vivo io ho fatto degli aperitivi in spiaggia che poi si trasformano in discoteca sulla spiaggia quindi molto molto divertenti oppure un'altra struttura il one and only che è una delle poche strutture ad avere una band tutte le sere composta da otto elementi che fanno musica dal vivo molto divertente dove è possibile ballare o lo stesso long beach anche lì quasi tutte le sere musica dal vivo qualcuno chiede mare e spiaggia nella parte nord certo mare e spiaggia nella parte nord ci sono si possono il mare nella parte nord il mare che si affaccia sulle isolette che ho fatto vedere prima quindi su Coindemir su Iluo Gabriel non hai delle spiagioni enormi ecco se vuoi una spiaggia grande per chi rimane nella zona degli alberghi di Pointeau Beach si può spostare nella zona di Troubiche che è proprio in tre minuti di macchina alcuni alberghi hanno anche le biciclette quindi ci si può spostare in bicicletta se no le spiagioni quelle più più ampie le trovi come dicevamo prima a costa est nella zona magari di Belmar piuttosto che nella costa di Flick & Flack temperatura dell'acqua sì il mare durante il nostro durante il loro inverno è freschina la mattina presto non ci si fa il bagno a meno che uno non è abituato ad andare a fare il bagno alle Canarie dove comunque l'oceano è un pochino più freschino lo si fa intorno alle undici ecco undici undici e mezzo non lo si fa tutto il giorno durante il periodo di agosto però credetemi che è un momento in cui si può fare comunque il soggiorno balneare si può considerare una destinazione per la bassa stagione perché non ha i prezzi altissimi della peak season di gennaio-febbraio andiamo in alberghi dove magari abbiamo il tutto compreso con un prezzo molto interessante che spesso fa veramente concorrenza a quella che è la nostra Sardegna e poi lo dico sempre soprattutto quando mi prenotate magari dal sud dai miei clienti vanno ad agosto cosa trovano? sicuramente in Puglia fa più caldo in Sicilia fa più caldo decisamente i 40 gradi a Mauritius li raggiungiamo verso gennaio-febbraio i giorni in cui ci si arriva con un'umidità che è comunque abbastanza alta non raggiungiamo quei gradi durante il loro inverno sicuramente no però è piacevolissimo durante il giorno arriviamo sui 24 25 gradi la temperatura dell'acqua magari risulta un po' più freschina però immaginate anche le famiglie con i bambini senza dover sudare è più che altro una questione l'indossare anche durante la cena durante il loro inverno semplicemente un golfino per la sera piuttosto che una una pashmina sulle spalle è semplicemente perché i ristoranti sono tutti mezzi aperti difficilmente a Mauritius trova i ristoranti chiusi quindi noi che andiamo a cena ad un orario un pochino più comodo verso le 8 le 9 di sera sicuramente troveremo i posti un pochino più esposti al vento i tedeschi e gli inglesi che vanno a cena alle 6 di sera si prendono sempre i posti più interni quindi tutto qui però davvero si può benissimo fare anche ad agosto Mauritius grazie a tutti